Niente Juncker, siamo inglesi. Il premier britannico David Cameron avrebbe minacciato di portare la Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea se Jean-Claude Juncker, candidato dei popolari, sarà nominato presidente della Commissione, a rivelarlo il settimanale tedesco Spiegel. Anche il presidente francese Hollande non vedrebbe di buon occhio la scelta tedesca e penserebbe piuttosto al suo ex ministro delle finanze Pierre Moscovici. L'ex premier lussemburghese Juncker è stato alla testa dell'Eurogruppo per otto anni. ha recentemente ricevuto l'endorsement della cancelliera Angela Merkel. La scelta però destabilizzerebbe così tanto il governo britannico, secondo il settimanale tedesco, che Cameron sarebbe costretto ad anticipare il referendum su Bruxelles e il risultato a quel punto sarebbe a favore dell'uscita della Gran Bretagna dall'Europa.